apri il buccio uè lucio vieni ad aprire apri lucio tre due a post lucio 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 e dai lucio muoviti 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 apri il buccio apri il buccio guardatelo come secco ma c'è tutto il secco di fuori ecco eccolo qua il supercazzolo con lo scappelamento a destra senti tu di allo scemo del villaggio di non dire stronzati uè ragazzi lo sapete che i risvegli all'alba lo straniscono no non aprite le finestre non fate casino che i vicini sono delle serve e fate vedere allo scemo come è fatto un cesso che quello lì mi piscia per terra hermano prepara qualcosa da bere dai ci penso io lucio lucio ma cos'è guarda mi prepara una cosa che mi spende tu ti voglio vedere chi ti metti suoni e luci sentite che dici ragazzi invenzione cinese ci metti questa si che è musica dici ciotto la moto che tu vai per terra ecco la giamella è versa dai e lascialo non abbassare dai un bel brindisi un bel brindisi prendiamo lucio da volta mi scolo tutta la bottiglia voglio vedere che sai fare dai al col due o si pronuncia u cretino al cul si sente è venuto fuori uno schifo infatti te lo dico io dove te lo sbatterei poi c'è la roba e non dite niente ti vedi da bravo camerata parti uguali un pezzichetto caruno ma che richiami parti uguali quelli nascondi ecco lì allora che si fa a chi telefono? a lea te ne morivi eh saluta pronto bruna ciao sono luis c'è lea ehi ragazzi vedete che c'è il magime ma è un magime speciale è per gli uccellini per gli uccelloni ehi dove andate? il comere ci chiama yahoo sta fermo perché? ma sei proprio cretino le armi da collezione sono denunciate hai ragione scusa e non dormire dammi una mano e non dormire dammi una mano non sbagliava adesso basta mi sono stupata ma che basta vieni veniamo tutti dai 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 che godo godo? no non godo di chi è questo? non essere la gara dai bravo tinta tinta bella ma chi è stato? che schifo che puzza ma che cosette hai mangiato ieri? uova marce sei stata tu vero? che pianta la porto? voce di culo scelita di corpo ha confessato ha confessato no tu resta a casa ti chiamo io appena posso te l'ho già detto in casa di amici che non conosci ma adesso me ne vado Luis ti prego dammi retta mollale molla tutto e tutti vieni via da solo Luis Lea devo andare ti ho detto ti richiamo io appena posso Luis ti prego aspetta ti devo dire una cosa Luis ciao Lea scusami ma adesso devo andare no un momento ma dove vai? con chi vai? ciao appena in tempo signor commissario il ragazzo ha chiamato da qui Petrus la seghissima che fa benissimo ma che fai? l'angillota no? no ferma dai devi essere domata dai non fa nel medioevo non il west dai cavalca dai dai ferma cavallina dai dai ferma dai dai ferma dai dai senti io non vengo se mi molli adesso mi fai una carognata una carognata io a te tu non hai sparato mai e io lo direi tu non sapevi niente e io lo direi io non mollo gli amici non li mollo mai non li mollo mai è caduta Santa Giovanna proprio adesso passiamo la prima finitela andate a vestirvi lo sai che dai troppi ordini tu? non hai letto Freud chi non ha il cazzo duro si sfoga a comandare che bravo che bravo che bravo che bravo che bravo che bravo adesso basta vestitevi dai che dobbiamo andare ciao bellezza prima di uscire mettete tutto in ordine e ricordatevi di spegnere le luci e chiudere la porta che bravo guardate il giardino frugate dappertutto anche nei cassetti sopra non c'è nessuno commissario venga a vedere non c'è più nessuno commissario ma sotto è pieno di armi per questa ci vuole un'ambulanza senti dove sono andati gli altri chi sei? dove sono andati gli altri? a darevi al culo